Domenio! Granata partita! Il nemico cattura Bravo! Stiamo prendendo Alpha! Stiamo prendendo Bravo! Stiamo prendendo Bravo! Stiamo prendendo Alpha! Stiamo ricaricando! Arriva una Santex! Stiamo sull'obiettivo Bravo! Stiamo sull'obiettivo Alpha! Sua via tende istruzioni! Prendiamo Bravo! Richiedo ricognizione aerea! Stiamo prendendo Bravo! Stiamo facendo sicuro! Abbattuto! Arriva il nostro attacco con mortaio! UAV alleati in zona! Ua via è in sorbolo! Vitele Cruz pronto all'uso! Il nemico prende Bravo! Mi sparano addosso! UAV fine autonomia! Stiamo! Vitele Cruz! UAV alleato online! Abbiamo un attacco bravo! Un'attacco bravo! Impatto! Ottimo colpo! Il nemico prende Bravo! Il nemico cattura Alpha! Stiamo sull'obiettivo Bravo! Prendiamo Charlie! Stiamo prendendo Bravo! Mani veloci attivata! Siamo sull'obiettivo Bravo! Elicottero di supporto Siamo bravo! Guardate i tuoi alleati! UAV in zona! Siamo sull'obiettivo Bravo! Controlliamo Bravo! UAV di disturbo alleato in zona! Siamo sull'obiettivo! Il nemico cattura Bravo! Abbiamo perso Bravo! UAV alleato in zona! Stiamo prendendo bravo. Granata, muoverti! Lancio una granata! Lancio la munizione qui. Un nemico in volo. Mi sparano! Sto ricaricando. Vitol in arrivo nel lettore. Con un nemico controllo che obiettivi dovete attaccare. Siamo bravo. Granata partita! Stiamo perdendo alfa. Contatto! Ricaricando rapido attivato. Stiamo prendendo bravo. Lancio una granata! Stiamo con un obiettivo bravo. UAV attivo online. Il nemico prende alfa. UAV nemico attivo. Prendiamo bravo. Stiamo prendendo bravo. Atacco con mortaio alleando. Prendiamo bravo. Il nemico castura alfa. Esca manchata. Stiamo sull'obiettivo bravo. Stiamo prendendo bravo. Il nostro UAV è in sottovolo. I nemici lanciano un espulsivo aereo. UAV nemico in zona. Stiamo prendendo Charlie. Mi sparano! Siamo sull'obiettivo Charlie. Prendiamo Charlie. Il nemico prende alfa. Siamo sull'obiettivo Charlie. Abbiamo perso Charlie è sicuro. UAV alleato online. UAV nemico in volo. Granata partita! UAV nemico in zona. UAV nemico in zona. Arriva l'attacco con mortaio alleato. Prendiamo bravo. Siamo sull'obiettivo bravo. Mi sono alleato in arrivo. Il nemico ha catturato due obiettivi. Arrivate a respincerlo. Prendiamo bravo. Siamo in un'attacco. Le stiamo partendo. Forza! Siamo sull'obiettivo bravo. Stiamo prendendo bravo. Il nemico cattura Charlie. UAV pronto all'uso. Stiamo partendo Charlie. Scevuto. Il nemico prende Charlie. a morire qui. UAV nemico attivo. Missile cruise pronto a lancio. Il nemico ha catturato tutti gli obiettivi. Siamo sull'obiettivo bravo. Svitolo per le istruzioni. Prendiamo bravo. Stiamo prendendo Charlie. Stiamo prendendo bravo. Attenzione. Siamo sull'obiettivo Charlie. Scevuto. 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 Prendiamo bravo. Granata! UAV nemico in zona. Granata! Muoversi! Siamo prendendo Charlie. Granata! Siamo prendendo bravo. Cambio caricatore. Prendiamo Charlie. Stammi alla larga. Esplosivo aereo in avviso. Scevuto. Gun! Sto ricacchando. Siamo sull'obiettivo bravo. Siamo sull'obiettivo Charlie. Il nostro UAV è in corpolo. Confermato. Phoenix 23 in zona. In avviso di ticino. Scevuto Charlie. Stiamo prendendo Charlie Stiamo prendendo Bravo Stiamo prendendo Charlie UAV nemico in volo Stiamo sull'obiettivo Bravo UAV nemico attivo UAV di disturbo alleato attivo Stiamo prendendo Bravo Sto rifericando Prendiamo Bravo Nemico cattura Charlie Stiamo prendendo Alpha Il nemico ha due obiettivi Prendete nel controllo Ci colpiscono duramente Il nemico prende Charlie UAV nemico in volo Il nostro UAV di disturbo è attivo Stiamo sull'obiettivo Alpha Stiamo perdendo Charlie Stiamo sull'obiettivo Bravo Prendiamo Alpha Il nemico prende Charlie Stiamo sull'obiettivo Alpha Obiettivo Alpha al sicuro Prendiamo Bravo Stiamo perdendo Alpha Funzione fallita Rientrare alla base Prendete Prendete Grazie a tutti.